Sì, guardate, questi non aiutano e voglio anche ricordare che cominciamo ad avere cluster anche a livello nazionale di assembramento tra i giovani. Le immagini che hanno fatto il giro dei social le ha viste anche lui, il presidente Zayek, non nasconde il disappunto, perché la variante Delta è monitorata certo, ma non si deve sottovalutare. Italia in finale agli europei e gli assembramenti in piazza fanno esplodere la polemica. Da Treviso a Mogliano, dal Padovano a Jesolo in piazza Mazzini, ma nel capoluogo della marca ci si è spinti troppo in là. Abbiamo visto delle immagini sicuramente molto preoccupanti, perché ricordiamoci che il coronavirus non è scomparso. Quindi le immagini di assembramenti che abbiamo visto ieri sera in piazza Duomo sicuramente fanno molto preoccupare, tant'è che domani avremo un incontro con Questura e Prefettura proprio per parlare di questa situazione. Vertice domattina a Treviso in vista della finale di domenica sera. Il prefetto Maria Rosaria Laganà è lapidaria. Certe scene, dice, non si devono più vedere e non sono accettabili. E si rivolge a comune ed esercenti in modo netto. I plateatici non possono trasformarsi in luoghi di assembramento. D'altronde in tutta Italia l'indicazione del Ministero dell'Interno, arrivata in queste ore, parla di rimodulazione dei servizi e dei controlli. Deve essere rivisto il dispositivo di sicurezza nelle aree con i maxischermi, nelle piazze e nelle zone della Movida nelle principali città. Da parte sua la polizia locale prevede già un potenziamento. Il comando ha predisposto quattro pattuglie, che naturalmente vigeranno su tutto il territorio, in modo particolare nella zona tra piazza Duomo e piazza dei Signori, proprio per evitare questi assembramenti. Ma naturalmente attendiamo anche le disposizioni della prefettura e della Questura, perché trattandosi di problemi di ordine pubblico, naturalmente dipendiamo da loro. Poi i giovani magari non si ammalano in maniera importante, magari sono asintomatici, magari hanno sintomi banali, però è pur vero che a casa hanno una mamma, un papà, un nonno, una nonna, dei parenti, magari su di età, che se si beccano il virus, se fanno parte di quel 5% di vaccinati che non ha risposta anticorpale, rischiano di ammalarsi gravemente e anche di morire. Le regole che dobbiamo seguire in questi casi sono sempre le stesse, quindi mantenere sempre il distanziamento e usare la mascherina. Quindi bisogna festeggiare, se si festeggerà, e speriamo di sì, in modo responsabile, però utilizzando sempre la mascherina.